A stalla vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, oggi 17 marzo 2021 è stato appunto rilasciato un nuovo DLC gratuito il giorno prima del rilascio appunto del DLC Legendary Pack 1, il DLC 12 a pagamento. Di regola doveva uscire ieri, quindi 16 marzo, ma ragazzi evidentemente hanno un po' ritardato la data di uscita perché ci ho provato ieri a scaricare questo DLC gratuito ma niente, oggi invece è partito il download, quindi raga evidentemente la data era oggi. Comunque sia ragazzi, dalle informazioni che ho letto online, questo nuovo DLC gratuito ha aggiunto molti nuovi contenuti davvero interessanti, come nuove mascotte che non vedo l'ora di scoprire, delle altre miniature per l'Irocolosium e sicuramente c'è anche tanta roba che online non è stata detta e quindi la scopriremo assieme oggi. Quindi ragazzi, io dico che è arrivato il momento di premere un tasto qui nel menu, facciamo X, vediamo un po', e abbiamo avuto accesso ai componenti aggiuntivi, perfetto, facciamo OK, procediamo ragazzi, facciamo inizia partita e ragazzi scopriamo tutti i contenuti. Scegliamo il nostro caro pattugliatore e ragazzi let's go! Oh ragazzi, attenzione, attenzione che cosa sta succedendo, qui abbiamo il nostro pattugliatore di fronte ad uno stilista che ci dice Ehi, sei un pattugliatore temporale, vero? D'ora in poi mi occuperò io del tuo stile, incredibile raga, fantastico, non vedo l'ora di aiutarti. Ok, grandissimo ragazzi, un nuovo personaggio quindi, magari ci sarà spesso a Conton City, vedremo, avanti. Di solito cambiamo colore e acconciatura, ma per i pattugliatori senza capelli possiamo offrire diverse forme della testa, bello eh? Ok ragazzi, quindi si tratta di personalizzazione del pattugliatore da quello che capisco, quindi possiamo cambiare tipo l'estetica del nostro pattugliatore? Magari anche la testa come sta dicendo appunto lo stilista? Cerchiamo di capire. Oh, sappi però che i nostri servizi costano 10 medaglie pattugliatore temporale, che non mi sembra neanche troppo rag, è pochissimo in realtà. Assicurati di averle se non ti piace qualcosa e vuoi cambiarlo, perfetto, ok ragazzi, buona sapersi ovviamente, già una novità questa appena siamo entrati, incredibile. Ci vediamo, torna quando vuoi, è anche gentilissimo raga questo stilista, mi piace come personaggio, ok. Ok ragazzi, quindi stilista versione 1.16.00, è arrivato uno stilista a Conton City, non si sa da dove, ma è arrivato. Fai la sua conoscenza, ti sta aspettando nell'area degli acquisti. In cambio di medaglie pattugliatore temporale, lo abbiamo già letto questo raga, lo abbiamo capito, potrà cambiare la tua acconciatura, tipo i capelli, non la testa immagino. Forma della tua testa e il suo colore, fantastico raga. Così come il colore della tua pelle, quindi diciamo che non può cambiare tutto il personaggio, ma il colore della pelle del pattugliatore, la forma della testa che mi interessa molto raga, perché se la vogliamo cambiare basta andare lì e la cambiamo. E anche il colore, quindi perfetto raga. E l'acconciatura, credo i capelli, qualcosa del genere, vedremo un po'. Chiudi. Ok ragazzi, quindi abbiamo lo stilista davanti a noi, facciamo parla. Lo stilista ci dice, oh ti do il benvenuto, allora oggi cosa facciamo, una bella accorciatina o magari vogliamo cambiare colore? Oddio raga, ma è davvero gentilissimo, mi piace già come personaggio, ok? Io già ve lo dico, mamma mia, vogliamo fare un'accorciatina o vogliamo cambiare colore? È tutto bello tranquillo. Avanti, finché hai le medaglie pattugliatore temporale, e ragazzi, altro che se ce le abbiamo, mamma mia, adesso vedrete, ogni tuo desiderio è un ordine. Ecco raga, è gentilissimo sto signore, grandissimo. Ok, vediamo un po' ragazzi, abbiamo 5000 medaglie pattugliatore temporale, non sono venuto qui, diciamo, a mani vuote, ho un sacco di medaglie che mi sono già farmato. Quindi, aspetto, allora ragazzi, testa capelli, tipo 16 abbiamo noi, e abbiamo tonalità pelle, quindi già è una cosa davvero grandiosa raga che in questo DLC gratuito non mi aspettavo, quindi ok, fantastico. Quindi colore capelli invece è chiuso perché non abbiamo i capelli, perché non è un pattugliatore saian o terrestre che ha i capelli, ok ragazzi, quindi per questo. Quindi, ad esempio, spendendo 10 medaglie pattugliatore temporale possiamo cambiare la testa, vediamo. Ci clicchiamo e ragazzi, come vedete qui, possiamo scegliere il tipo di testa, quindi possiamo andare o su o giù e scegliere la testa nuova che vogliamo mettere. Quindi proviamo, ad esempio ragazzi, tipo 15, tipo 14, tipo 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, bella questa raga, fantastica, 4, 3, 2 e 1. Ok raga, quindi è come quando creiamo il pattugliatore e appunto cerchiamo di trovare la testa che ci piace, no? Quindi sembra la stessa cosa, solo che qui possiamo cambiare solo la testa, è una cosa incredibile che non mi sarei mai aspettato in Xenoverse 2 con futuri aggiornamenti, oddio. Poi ragazzi, andando verso il basso invece, questa è la nostra testa, come quella di Janemba, no? Si capisce? Poi ragazzi, andando verso il basso abbiamo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Raga, tutte con le corna, quasi, ecco perché non ho mai scelto una testa del genere, perché sono tipo quelle di Freezer, tipo delle varie forme di Freezer un po' modificate. Questi tipi di testa intendo, con le varie corna, quindi ecco perché non ho mai scelto per non fare il personaggio troppo banale, ecco. Quindi raga, sapete che vi dico? Visto che abbiamo la possibilità di farlo già oggi, cambiamo la testa del nostro pattugliatore. Incredibilmente lo facciamo. Quindi sapete quale scelgo raga? Rivediamone un attimo, fatemele rivedere. Questo è interessante ad esempio, mamma mia raga, che testa incredibile qui, oddio. Questa anche, questa è tipo la seconda forma di Freezer o Recold raga, Recold insomma. Questa mi piace tanto, ma raga la vorrei cambiare, ce l'ho praticamente dall'inizio, inizio della serie di Xenoverse 2, quando abbiamo creato il pattugliatore. Quindi sono molto affezionato a sta testa, però ragazzi, sapete che vi dico? Sapete cosa vi dico? Che io scelgo, attenzione, attenzione, questa qui, la testa di cooler corpo perfetto. Guardatela bene raga, secondo me ci sta di brutto sul nostro pattugliatore e direi che è arrivato il momento di cambiare il tutto. Quindi tipo 5, ok ragazzi, al momento non ho ancora pagato nulla, tonalità pelle. Ovviamente ragazzi ho ancora i colori di C16, ok? Se non lo sapevate, io ho messo questi colori al mio pattugliatore per fare una specie di tributo a C16, il mio personaggio preferito. Ecco perché l'ho fatto verde chiaro e nero, no? Che sono i colori dell'armatura di C16. Quindi raga, volendo possiamo cambiare tutto, possiamo fare il colore della pelle, che ne so, rosso o tipo sul viola raga. Vediamo un po', facciamo qualche cambiamento raga, facciamo qualche cambiamento, vediamo un po'. Ok ragazzi, per cambiare un po' scegliamo questo colore della pelle, vai. Poi per questa parte del viso raga, quella vicino agli occhi, ai lati degli occhi, scegliamo un altro colore, tipo il rosso raga, vai. Poi per il verde scegliamo raga un bel colore che a me piace, questo qui ragazzi, assolutamente questo colore, il giallo che a me piace, guardate che bello raga, mamma mia, mamma mia che bello. Mentre per le parti, quelle toste, tipo fatte di cristallo, no? Tipo la testa, il busto, il centro del busto, scegliamo qualche altro colore. Io credo ragazzi che il blu sia perfetto per questa parte, il blu scuro, vai. Mamma mia ragazzi, guardate, lo abbiamo praticamente modificato il personaggio, guardate. Praticamente abbiamo fatto testa e busto, insomma, la parte dell'armatura del corpo, insomma, di colore giallo, il giallo che a me piace, quello è quello che mi piace di più. Poi raga, le parti, tipo fatte di cristallo, le parti dure, no? Tipo la testa e il busto, blu scuro, la pelle normale, tipo un celeste scuro, e appunto le parti laterali degli occhi le abbiamo fatte di colore rosso, quindi raga, fantastico, almeno lo abbiamo cambiato un po', poi ovviamente lo andremo a cambiare nuovamente. Spero vi piaccia raga, ho fatto un po' il tutto velocemente, ma almeno un po' andava cambiato. Quindi, adesso come si fa? Si torna indietro, conferma modifiche, questo cambierà il tuo aspetto. Ovviamente ragazzi, vuoi spendere 10 medaglie pattugliatore temporale per fare questa modifica? Ovviamente sì ragazzi, ma c'è da dire che 10 medaglie pattugliatore temporale non sono niente, cioè si farmano in 2 secondi, quindi sono davvero contento che bisogna spendere appena 10 medaglie e non 100, ad esempio 200, 500 per cambiare il personaggio. Quindi sono contento che questo stilista, diciamo, non ci fa spendere tanto, sono davvero contento di questo. Facciamo sì ragazzi, ed eccoci qua, stilista dice questo look ti sta un amore, oh ragazzi, fantastico. Che dire, mi piace, 10, se ti serve altro torna pure a fare un salto. Certo raga, torneremo ogni tanto, di tanto in tanto e cambieremo il personaggio, vai. Mamma mia ragazzi, guardate che bello il nostro pattugliatore qui a Contor City. Guardate che bello, questo colore celeste con questo giallo secondo me si sposano bene raga. Questi due colori sono davvero fantastici. Possiamo dire assolutamente che questi colori che abbiamo messo adesso si sposano benissimo, guarda caso, con i colori degli abiti di Bills. Che sono sul giallo, arancione e celeste raga, come vedete. I pantaloni sono celesti, poi abbiamo quelle parti del busto e dei pantaloni che appunto hanno dei colori sul celeste e arancione e anche un po' di nero. Quindi raga, vanno davvero bene. La cosa che vorrei fare adesso è togliere gli abiti e vedere come sta il personaggio senza nulla, quindi proviamoci. Ok ragazzi, non so cosa sia successo, ho tolto gli abiti e la pelle è nera. Cioè, quando ci sono gli abiti di Bills o magari qualche altro abito, la pelle è tutta celeste, è tutta blu insomma. Mentre quando tolgo tutti gli abiti, i piedi e le mani sono blu insieme alla coda e un po' di busto. Però appunto le gambe, le braccia e il collo sono neri. Non capisco se è un bug o una cosa normale di questo nuovo DLC ragazzi, non sto capendo sinceramente. Ragazzi, guardate, se metto ad esempio gli abiti diventa subito blu la pelle. Quindi credo sia una specie di bug, perché non ha senso. Se metto l'abito la pelle diventa colorata, se tolgo tutto appunto ritorna come prima. E invece il colore dell'armatura rimane giallo, non ha senso. Cioè, secondo me ragazzi questo è un piccolo bug che va aggiustato, perché non ha senso, non ha senso come cosa. Quindi se tengo qualsiasi altro abito, raga, come potete ben vedere, la pelle, ecco, è blu, è sempre blu insomma. Mentre se tolgo tutto, cioè, guardate voi stessi raga, ritorna nera. Cioè, blu in alcuni punti e nera in altri punti. Non riesco a capire, raga, è come se il cambiamento che abbiamo fatto sulla pelle non avesse avuto effetto, ecco. Non totale, ovviamente. Ecco, raga, per esempio, guardate, ho messo gli abiti di Bills e appunto la pelle è tornata blu, è tornata celeste. Se avete voi una risposta, raga, fatemi sapere, perché a me sinceramente mi sembra un piccolo bug. Poi non so, ragazzi, perché in quei punti torna normale e in altri punti no, sembra una specie di bug, diciamo, che fa tornare dei punti allo stesso colore di prima, i punti della pelle, mentre in altri punti rimane del colore nuovo che abbiamo messo. Quindi è un po' assurdo, fatemi sapere se succede anche a voi. Comunque, ragazzi, visto che ci dovrebbero essere al negozio medaglie e pattugliatore temporale delle nuove mascotte, tiriamo fuori la nostra mascotte, il nostro caro Zenuccio, e andiamo appunto al negozio medaglie e pattugliatore temporale. Vediamo se sono apparse quelle nuove. Parla, vediamo un po', ragazzi, spero di sì, tra l'altro, quindi andiamo a mascotte. E ragazzi, sì, perfetto, ce n'è uno in più. Quindi queste tre sono quelle che sono rimaste da acquistare, che non ho ancora acquistato, ma le acquisteremo con calma. E qui sotto, ragazzi, abbiamo Janemba, la mascotte di Janemba, prima forma, con i colori della seconda trasformazione. Oh mio Dio, ragazzi, quindi appunto abbiamo Janemba come mascotte, ce n'è solo una qui dentro, ma sono state aggiunte sicuramente altre colorazioni e ne sono contento. Costa sempre 1500 medaglie e pattugliatore, e qui, ragazzi, dice una mascotte dai colori ispirati alla trasformazione di Janemba. Ecco, ragazzi, che le conferisce un aspetto più temibile. Ha ragione, ragazzi, la descrizione, perché con il colore originale sarebbe stato meno spaventoso, mentre così è davvero una figata sto personaggio, questa mascotte, insomma. La cosa, ragazzi, che voglio dirvi è che a me Janemba come personaggio piace molto, e me lo ricordo appunto nel film di Dragon Ball Z, purtroppo non canonico, che si chiama appunto il Diabolico Guerriero degli Inferi, quindi mi ricordo ovviamente sia la prima mitica forma tipo pacioccosa, no? E quindi un po' stupida, bella gigante, e poi la seconda forma molto molto più cazzuta. Quindi hanno unito le due cose e hanno fatto la prima forma con i colori della seconda forma, quindi raga, una roba davvero stupenda. E ragazzi, vedremo un po' di acquistarla. Comunque sì, andiamo a controllare tutto il resto, almeno so che c'è la mascotte qui. Quindi, ragazzi, giusto per controllare, sono venuto qui alle missioni parallele, e non ce ne sono, quindi non sono state aggiunte missioni parallele, quelle magari verranno aggiunte con il DLC appunto che uscirà domani, il 18 marzo, il DLC a pagamento. Ritorniamo al negozio, e ragazzi, ho notato che non sono state aggiunte le illustrazioni, cioè non so se verranno aggiunte o meno, però probabilmente verranno aggiunte stavolta con il DLC di domani, appunto il DLC Legendary Pack 1, che è a pagamento, quindi aggiungerà una roba davvero assurda, un sacco, un sacco di contenuti, e magari anche le illustrazioni. Ragazzi, anche se questa mascotte è davvero molto pacioccosa ed invitante, voglio aspettare ad acquistarla. L'acquisteremo in un prossimo episodio, e l'andremo a provare in giro per Conton City, vedendo che cosa sa fare. Tra l'altro, le altre colorazioni differenti di Janemba, credo, si sblocchino con le missioni online, quelle ride dove, appunto, si sbloccano le mascotte. Quindi, raga, qui ce n'è solo una, acquisteremo questa, poi magari in futuro, se farò qualche missione online, sbloccheremo anche quelle mascotte, e appunto le andremo a provare. Tra l'altro, dovrebbero essere state aggiunte, anche come ho detto già prima, le miniature per l'Irocolosseum, che io, raga, non sto usando, non ci sto giocando, insomma, quindi non credo andrò a controllare, magari lo faranno altri, non lo so. Comunque sì, ragazzi, le cose che mi hanno colpito sono la mascotte di Janemba, quella che abbiamo visto nel negozio, e soprattutto, raga, lo stilista, ma chi se lo sarebbe mai aspettato in questo DLC gratuito? Cioè, io non mi sono spoilerato nulla nelle notizie, quindi non lo sapevo dallo stilista, quindi, raga, questa novità di cambiare l'acconciatura del pattugliatore, la testa e il colore della pelle, è davvero grandiosa, raga, non me lo sarei mai aspettato, anche perché per cambiare tutto ciò, per bene, bisognerebbe andare ad esprimere il desiderio al drago Sharon, quindi si perderebbe comunque tempo, mentre con 10 medaglie pattugliatore temporale appena, si cambia appunto dallo stilista un po' il personaggio, e lo faremo spesso, credo. Raga, per il momento lo lascio così, quindi sul blu e giallo, anche se con la trasformazione dorata diventerà comunque sul giallo, però è sempre un dorato, un colore sull'oro, non un giallo come quello che ho messo io, quindi appunto la cosa sarà diversa. Raga, spero che vi sia piaciuto il cambio che ho fatto al mio pattugliatore, lo terrò per un bel po' così, credo, perché è davvero figo, raga. Poi, se volete, fatemi sapere la vostra su come ho cambiato il mio pattugliatore, nel caso fatemi sapere come vorreste che lo cambiassi successivamente in altri video, raga, quindi lasciatemi tanti commenti qui sotto al video, e ragazzi, domani ci sarà appunto il DLC Legendary Pack 1, bello corposo, pieno, pieno di roba, e sarà, raga, una bella roba corposa, quindi dopo tanto tempo riceviamo un altro DLC bello pieno, e ci sarà davvero tanta, tanta roba da fare, e son convinto che con quel DLC a pagamento usciranno i contenuti da tutte le parti, cioè nel senso, con questo DLC gratuito è stato aggiunto, giustamente, qualche contenuto, giusto qualcosa, ma con quello a pagamento, ragazzi, verrà rilasciato di tutte di più, ne son convinto. Quindi ragazzi, io direi che ci possiamo tranquillamente fermare qua, fatemi sapere la vostra su tutto questo primo episodio del DLC gratuito, fatemi sapere che cosa ne pensate del cambio che ho fatto al mio pattugliatore, e soprattutto dello stilista, se vi piace cambiare il vostro pattugliatore in quel modo là, se l'avete già fatto, e fatemi sapere che cosa ne pensate della mascotta appunto di Janemba, con i colori della seconda trasformazione, che, come vi ho detto, andremo ad acquistare, e a testare per conto il sito nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, e che vi abbia anche un po' divertito, se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, e ricordatevi sempre che io tornerò! Iscriviti al nostro canale